Il Centro Studi Vitruviani ha presentato la seconda edizione della Summer School, finalizzata ad approfondire sempre più la conoscenza di Vitruvio e del mondo romano a coloro che si sono già laureati. L'iniziativa è sostenuta anche dal Comune di Fano, dalla Fondazione Carifano, dalle Università di Ancona e di Urbino e dal Ministero della Cultura. Il corso si terrà a Fano a Palazzo San Michele dal 2 all'8 luglio e si articolerà in lezioni teoriche, letture del testo vitruviano, sopralluoghi e visite guidate. Tema di quest'anno è l'Arco, dall'antichità al mondo contemporaneo e prenderà in esame un monumento simbolo dell'antichità classica, appunto l'Arco, a partire dalle sue origini in età greca e al suo sviluppo in età romana fino alle sue evoluzioni dal rinascimento all'età contemporanea. Le lezioni saranno tenute da noti esperti del mondo accademico, di diverse università italiane e straniere. Una novità importante è che quest'anno la Vitruvio Summer School si aprirà anche alla città, con due lezioni aperte liberamente a tutti. Sono quella del 2 luglio che è la lezione inaugurale tenuta dal professore Eugenio Larocca proprio sul tema della Summer School, l'Arco, il suo significato, come è nato e poi invece il giorno dopo, il giorno 3, che avremo il professor Carl Friedrich Orr, studioso della materia, studioso e ha scritto anche sulla Basilica di Vitruvio, che terrà una lezione sulla Basilica di Vitruvio e dopo il suo intervento si aprirà un confronto, una tavola rotonda tra lo stesso Orr, poi Eugenio Larocca, Paolo Clini e Oscar May, che ovviamente affronteranno dai vari punti di vista, anche con l'ottica di discipline diverse, il tema importantissimo per noi della Basilica di Vitruvio. Interessante questo appuntamento perché anche Fano in sé per sé ha un arco. Noi oggi lo percepiamo così, per quanto residua dopo gli eventi della storia, in realtà era un quadrilatero perché c'aveva un cavedio, c'aveva anche delle parti interne alla città, oltre alle due torri. Quindi anche dal punto di vista storico archeologico ancora credo che possa essere messo in evidenza da parte degli studiosi la peculiarità di questa nostra porta. Abbiamo deciso di parlare di questo monumento, appunto dell'arco, dalle origini della struttura architettonica in età greca e per poi arrivare appunto a sviscerare l'argomento arco in età romana partendo dalla processione trionfale, quindi dalla nascita e per poi arrivare allo sviluppo architettonico dell'arco e anche alla decorazione. Parleremo dell'arco in età medioevale, dell'arco in età rinascimentale, dei monumenti di questo tipo in età illuministica, quindi del Settecento, fino ad arrivare agli archi a noi contemporanei, a noi più vicini, che sono quelli ad esempio della Défense di Parigi o l'arco della vittoria di Bolzano di epoca fascista.